Condizionale in italiano, un modo verbale che crea spesso un po' di confusione. Come si usa il condizionale? Quando si usa? Perché si usa? E come formare la concordanza con il condizionale? Queste sono le domande che mi vengono poste spesso in merito all'utilizzo di questo modo verbale della lingua italiana. Questo è il primo di una serie composta da tre video in cui studieremo insieme il condizionale in italiano e in questo modo potrò rispondere a tutte le domande che mi avete posto in merito al condizionale. Nel primo video studieremo insieme come formare il condizionale presente e il condizionale passato. Nel secondo video studieremo insieme gli usi del condizionale dunque vedremo come usarlo, quando usarlo e perché usarlo. Nel terzo video vedremo infine la concordanza con il condizionale. Ti consiglio di venire sul mio canale youtube lingua italiana insieme, di iscriverti e attivare la campanella per essere sempre informato e informata quando pubblicherò un nuovo contenuto e dunque per non perderti nessuno di questi tre video della serie dedicata al condizionale in italiano. Inoltre per ognuno di questi video ho creato degli esercizi di grammatica e del materiale di studio come tabelle e appunti per approfondire a casa da solo e da sola lo studio di questa struttura linguistica. Questo materiale è disponibile per i nostri abbonati e le nostre abbonate su patreon e al canale youtube. Trovi tutte le informazioni sugli abbonamenti nella descrizione a questo video. E dunque partiamo subito con il primo video di questa serie dedicata al condizionale. Primo passo quando si studia una nuova struttura linguistica è lo studio della forma. Che cosa significa? Significa che prima di capire come usare una struttura linguistica dobbiamo conoscere bene come formarla. Per questo in questo video vedremo insieme appunto come formare il condizionale presente e il condizionale passato. In un altro video che ho pubblicato un po' di tempo fa, che puoi guardare cliccando su questo link che appare in alto, ti spiego uno perché è importante partire dalla forma della struttura linguistica. Perché dobbiamo prima studiare come formare questa struttura linguistica e due ti insegno, condivido con te degli esercizi di memorizzazione che puoi fare appunto in modo autonomo per fissare la struttura grammaticale. Per approfondire dunque ti rimando al video che appare qui in alto. Torniamo a noi adesso e subito passiamo al contenuto di questa video lezione e cioè la forma del condizionale presente e del condizionale passato in italiano. Ti consiglio prima di iniziare di prendere carta e penna e di prendere appunti su tutto quello che dirò oggi in questa video lezione perché prendere appunti, scrivere aiuta tantissimo il processo di apprendimento. E dunque iniziamo e spostiamoci subito sulla mia lavagna virtuale. Eccoci qui, siamo sulla mia lavagna virtuale, nello specifico in questa video lezione vedremo insieme come formare il condizionale presente in italiano e in particolare vedremo insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi, ok? Per quanto riguarda il condizionale presente passeremo poi brevemente alla coniugazione del condizionale passato in italiano e vedremo insieme i vari gruppi di verbi. Torniamo indietro e iniziamo dal primo gruppo. Prima di iniziare ricordiamo che il condizionale è un modo della lingua italiana composto da tempi verbali, così come abbiamo il modo indicativo e all'interno del modo indicativo abbiamo il tempo presente, passato prossimo, imperfetto, passato remoto, futuro, eccetera. Così abbiamo il modo condizionale composto da due tempi verbali, un tempo semplice, il condizionale presente, e un tempo composto, il condizionale passato. Un tempo semplice è un tempo formato da una parola, amerei, vedi, una parola. Un tempo composto è un tempo formato da due parole, io avrei amato, avrei, prima parola, amato, seconda parola, per questo motivo si chiama tempo composto. Iniziamo dunque, per quanto riguarda il condizionale presente, dal gruppo dei verbi regolari. Come per qualsiasi altra coniugazione di altri modi e tempi verbali, per i verbi regolari, quello che dobbiamo fare è partire dalla base del verbo, dunque dall'infinito, eliminare la desinenza, are, ere, ire, e sostituire questa desinenza per ogni persona, quindi io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, sostituiamo questa desinenza con la desinenza specifica di ogni persona. Quindi questa è l'operazione che dobbiamo fare per qualsiasi modo e tempo verbale in italiano per poter fare appunto la coniugazione di uno specifico tempo e modo della lingua italiana. Per i verbi regolari dunque, i verbi nare, i verbi nere e i verbi nire, ecco come formare il condizionale presente. Io amerei, tu ameresti, lui amerebbe, noi ameremmo, voi amereste, loro amerebbero. Io prenderei, tu prenderesti, lui, lei prenderebbe, noi prenderemmo, voi prendereste, loro prenderebbero. Dormire, io dormirei, tu dormiresti, lui dormirebbe, noi dormiremmo, voi dormireste, loro dormirebbero. In merito a questo primo gruppo di verbi regolari ho soltanto una piccola precisazione da fare. Attenzione alla prima persona plurale di questi verbi, perché se voi non mettete la doppia m, ameremmo, prenderemmo, dormiremmo, dunque se non mettete la doppia m, trasformate questa forma nel futuro semplice del verbo e quindi cambiate ovviamente il significato alla frase. Ameremo con una m è il futuro semplice. Prenderemo con una m è il futuro semplice, dormiremo con una m è il futuro semplice. Quindi mi raccomando a questa cosa molto importante, perché la presenza o l'assenza di una m fa la differenza e potrebbe cambiare il significato di un'intera frase. Va bene? Abbiamo poi questo secondo gruppo e cioè i nostri famosissimi verbo essere e verbo avere. Io sarei, tu saresti, lui sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Io avrei, tu avresti, lui avrebbe, noi avremmo, voi avreste, loro avrebbero. Quindi secondo gruppo. Ogni volta che si studia un nuovo tempo verbale, un nuovo modo tempo verbale, bisogna sempre vedere la forma dei verbi essere e avere, molto utilizzati, molto diffusi. Dopo il secondo gruppo entriamo nel terzo gruppo, un gruppo particolare, formato da verbi che finiscono in ciare, come lanciare, vedete? Lanciare e giare, come mangiare. Questo gruppo ha questa caratteristica di finire, di avere queste desinenze, diciamo, di avere questa questa parte finale. I verbi di questo gruppo quando formano il condizionale perdono la i e cioè questa, qui. Dunque non diventa lancierei, lancieresti, lancierebbe, o mangierei, mangieresti, mangierebbe. No, quando facciamo il condizionale presente, questi verbi particolari perdono la i e dunque la forma diventa questa che vedi. Lancierei, lanceresti, lancierebbe, lanceremmo, lancereste, lancierebbero. Mangerei, mangeresti, mangerebbe, mangeremmo, mangereste, mangerebbero. Mi raccomando quando scrivete dunque il condizionale di questi verbi in ciare e giare. Nel quarto gruppo invece abbiamo dei verbi che finiscono in care e gare, care come per esempio cercare, gare come per esempio pagare. Con questi verbi quando formiamo il condizionale vedete aggiungiamo prima della desinenza aggiungiamo una h quindi non diventa cercerei, cerceresti, cercerebbe eccetera eccetera, o pagerei, pageresti, pagerebbe. No, diventa cercherei, cercheresti, cercherebbe, cercheremmo, cerchereste, cercherebbero, pagherei, pagheresti, pagherebbero, pagheremmo, paghereste, pagherebbero. Dunque vedi con questo tipo di verbi aggiungiamo la h quando formiamo il condizionale presente. Quinto gruppo, eccoci qua, in questo quinto gruppo abbiamo dei verbi e i principali sono questi in realtà, ok? Abbiamo dei verbi che nella desinenza, cioè questa parte qua, ok? Sono verbi inere, come puoi vedere qui, cioè verbi che hanno l'infinito inere, e questi verbi particolari nella desinenza perdono la e, perché se noi andiamo nel gruppo dei verbi regolari, guarda un po', guardate un po', nella desinenza noi troviamo la e, non è prendrei, prendresti, ma è prenderei, prenderesti, prenderebbe, e questo è quello che succede ai verbi regolari. In questo particolare gruppo la e della desinenza cade, quindi non diventa doverei, poterei, saperei, viverei, anderei, caderei, no, la e cade, va via, viene eliminata e il condizionale presente diventa in questo modo, per tutte le persone, vedete? Quindi per ogni persona abbiamo perso la e. Dunque diventa dovrei, dovresti, dovrebbe, dovremmo, dovreste, dovrebbero, potrei, potresti, potrebbe, potremmo, potreste, potrebbero, saprei, sapresti, saprebbe, sapremmo, sapreste, saprebbero, vivrei, vivresti, vivrebbe, vivremmo, vivreste, vivrebbero, andrei, andresti, andrebbe, andremmo, andreste, andrebbero, cadrei, cadresti, cadrebbe, cadremmo, cadreste, cadrebbero. Mi raccomando anche a questi gruppi particolari, a questo gruppo particolare di verbi irregolari, non preoccuparti, negli esercizi avrai la possibilità di fare pratica con questi verbi, con la struttura di questi verbi. Inoltre se guarderai il video che ti ho consigliato all'inizio, che riappare adesso nel link in alto, scoprirai un esercizio molto utile che dovrai fare d'ora in avanti per memorizzare la forma di questo nuovo modo verbale, modo e tempo verbale. Spiego tutto in quel video, perché ovviamente adesso sai come formare, ma dopo dovrai iniziare a praticare e nel video ti spiego come farlo, quindi mi raccomando, vallo a guardare. Prima di andare avanti e di vedere il sesto gruppo di verbi irregolari, se questo video ti è piaciuto, ti è stato utile, ti invito a lasciare un piccolo like. È un gesto minuscolo, piccolissimo, ma che per me fa una grande differenza. Se lo farai, io ti ringrazio in anticipo. Iniziamo ad usare il condizionale. Andiamo avanti e vediamo il sesto e ultimo gruppo per quanto riguarda la coniugazione del condizionale presente in italiano. In questo gruppo abbiamo dei verbi particolari. Questi verbi particolari irregolari, ovviamente, dunque che formano il condizionale in modo irregolare, abbiamo verbi che nella desinenza, dunque in questa parte in rosso, vedi, quando parlo di desinenza mi riferisco sempre a questa parte in rosso, verbi che in questa parte in rosso raddoppiano la R. In tutti, in questo particolare gruppo di verbi irregolari, come puoi vedere, abbiamo un raddoppiamento della R, del condizionale presente. Quindi non è venirei, no? Come sarebbe se fosse un regolare? Non è rimanerei, tenerei, volerei, bererei, in questo caso sarebbe così, ma questo gruppo particolare prevede un raddoppiamento della R. Verrei, manterrei, rimarrei, terrei, vorrei, berrei, vorrei, berrei. E lo stesso per tutte le altre persone. Questi sono i verbi principali di questo gruppo, quelli che devi memorizzare, e lo stesso vale per quest'altro gruppo, ok? Per quanto riguarda gli altri verbi, il condizionale è un modo altamente regolare, quindi non avrai problemi. La risposta è sì, tutte le regolarità sono contenute in questo file, va bene? Tra i materiali di studio, inoltre, troverai il vocabolario di base della lingua italiana, una lista di verbi creata da me contenuti all'interno del vocabolario di base della lingua italiana, cioè i verbi che compaiono nel 90% di testi scritti e parlati della lingua italiana. Come esercizio ti consiglio di prendere questa lista che trovi nel materiale di studio ed iniziare a scrivere a mano la coniugazione di ogni verbo. Per controllare se hai scritto la coniugazione nel modo giusto o sbagliato, vai sul sito dopo coniugazione.it e controlla, fai un confronto e un'autocorrezione dunque se hai sbagliato la forma del verbo. Detto ciò, visto il condizionale presente, passiamo al condizionale passato, che in realtà è molto semplice perché se stai studiando adesso il condizionale hai sicuramente già studiato come formare il passato prossimo in italiano e poiché hai già studiato questo argomento, formare il condizionale passato sarà per te un gioco da ragazzi, cioè una cosa estremamente semplice. Se non hai ancora studiato come formare il passato prossimo e dunque non sai cosa sono i verbi transitivi, i verbi intransitivi, i verbi doppia faccia, i verbi furbi e i verbi copulativi, ti consiglio di guardare un video che ho pubblicato un po' di tempo fa, che appare adesso qui in alto, in cui spiego come formare il passato prossimo in italiano e dunque ti spiego quando utilizzare avere, come in questo caso, e quando utilizzare essere. Il condizionale passato come il passato prossimo è un tempo composto, cioè un tempo formato da due parole. Queste due parole sono il verbo essere o il verbo avere al condizionale presente, vedi qui, avrei verbo avere condizionale presente, sarei verbo essere condizionale presente, questa è la prima parola, la seconda parola è il participio passato del verbo. Nel video di cui ho parlato poco fa spiego anche come formare il participio passato in italiano, quindi non preoccuparti, se non sai questo argomento, non conosci questo argomento, recupera questa mia video lezione. Quindi il condizionale composto è un tempo composto e si forma utilizzando il verbo avere o il verbo essere al condizionale presente più il participio passato del verbo. Con i verbi transitivi, come amare, sapere e sentire, formiamo il condizionale passato utilizzando il condizionale presente del verbo avere e il participio passato del verbo. Io avrei amato, tu avresti amato, lui, lei avrebbe amato, noi avremmo amato, voi avreste amato, loro avrebbero amato. Per i verbi intransitivi invece utilizziamo il presente condizionale del verbo essere, sarei, saresti, sarebbe, saremmo, sareste, sarebbero, e il participio passato del verbo maschile o femminile, singolare o plurale, in base al soggetto del verbo. Quindi io uomo sarei andato, io donna sarei andata, noi uomini saremmo andati, noi donne saremmo andate. Abbiamo qui i verbi doppia faccia, spiego questo concetto nel video di cui ho parlato prima, se dunque li usiamo come intransitivi utilizziamo le stesse regole che valgono per i verbi intransitivi, se invece sono transitivi utilizziamo le stesse regole che valgono per i verbi transitivi. Nel quarto gruppo abbiamo i verbi furbi, e anche questo concetto è spiegato nel mio video, e come per tutti i verbi furbi utilizziamo il condizionale presente del verbo avere più il participio passato del verbo, ed infine per i verbi copulativi utilizziamo il condizionale presente del verbo essere più il participio passato del verbo, singolare o plurale, maschile o femminile, dipende dal soggetto. Io uomo sarei diventato, io donna sarei diventata, noi uomini saremmo diventati, noi donne saremmo diventate. E dunque, ecco qui spiegata a te la formazione del condizionale presente e passato. Adesso, dopo aver visto come formare condizionale presente e condizionale passato, è arrivato il momento della fissazione della forma. Dunque, uno, guarda il mio video e inizia a fare gli esercizi di memorizzazione e fissazione di cui parlo in questo video. Due, fai gli esercizi di grammatica legati a questa video lezione. La prima parte nello studio di una struttura grammaticale è sempre quella un po' più noiosa, perché appunto è una questione di ripetizione, compilazione degli esercizi e forma il condizionale presente del verbo tra parentesi, bla 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 bla. Sì, hai ragione, è noioso, ma necessario. A volte dobbiamo fare anche cose meno piacevoli. Quindi forza, studiante, gambe in spalla, adesso tocca a te mettere in pratica e memorizzare questo condizionale presente e passato. Grazie per il ascolto e ci sentiamo. Alla prossima, ciao!